ciao a tutti io sono francesca oggi voglio farvi la recensione di squid game è una serie tv coreana in lingua coreana scusate ho sbattuto la mano e con i sottotitoli in italiano per ora poi può darsi che anzi probabilmente la metteranno anche la lingua italiana in poche parole allora piccola parentesi perché questa serie tv sta facendo scandalo perché hanno visto anche i dei bambini e diciamo che non stanno avendo dei comportamenti esatti giusti all'interno delle scuole nella loro vita però io dico la colpa non è di netflix o di chi ha fatto questa serie tv ma la colpa è dei genitori che fanno guardare questa serie tv a dei bambini io avessi dei figli non gliela faria mai vedere però vabbè adesso vi dico un attimino la mia allora secondo me faranno sicuramente il seguito di questa serie perché non può finire così raga non può finire così con lui che un anno dopo cerca di capire chi c'è dietro al gioco poi soprattutto spoiler si capisce cioè almeno io ho capito subito che il vecchietto non era un partecipante a caso ecco che fosse un pochettino infiltrato l'avevo capito poi ho avuto la conferma quando gli dovevano sparare perché aveva perso il gioco delle biglie e poi alla fine c'è nel senso lì si sente lo sparo ma non fanno vedere che gli sparano mentre altre volte fanno vedere che ai concorrenti sparano è un po crudo come è una serie un po cruda però però così c'è un po come hunger games oppure ce ne sono 8 mila di film come questa serie tv e quindi nel senso voto da 1 a 10 7 8 facciamo 8 bella però forse stato in italiano sarebbe stato meglio ma detto questo io vi saluto noi ci vediamo alla prossima ciao